ciao a tutti ragazze e buongiorno allora sono qui a illustrare le promozioni per il mese di febbraio allora abbiamo una promozione legata al discorso dell'amore in tutte le sue forme di totale relax per amarsi e prendersi cura di sé da che va dal 13 di febbraio al 19 di febbraio dove troverete poi la spiegazione di tre percorsi e poi abbiamo invece una promozione legata al funzionalità e alla detossinazione del corpo proprio per liberarsi dalle tossine e rimettersi un pochino in forma che va dal 20 di febbraio al 28 di febbraio vi aspettiamo sempre con piacere francesca grazie